O Dio, fonte di ogni grazia e santità, ora con amore i tuoi fedeli che hanno restaurato questa divina immagine, dei santi testimoni di fede, carità e speranza, loro amici e diretti di Cristo, vedenti testimoni del Vangelo, donaci di sperimentare l'efficacia della loro intercessione presso il trono della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amén. Il Signore sia tu voi, che gloria e gloria e letizia dei suoi servi fedeli, che ci ha donato i santi con il segno della sua protezione, faccia rispettere il suo volto su di voi. Amén. L'intercessione dei santi vi liberi dai vari tuoi esempi, il loro esempio vi sproni a vivere secondo il Vangelo nel servizio di Dio e di Fratello. Amén. Amén.